allora da chi si parte dal ripiglio no no ripiglio in ordine alfabetico no no io mi chiamo Zazzeri la grappina l'ha finita tutta scusa Maurizio ma dicevi della grappa? andate su a pigliare no no la città perchè è casa tua allora siamo qui in questa pubblica piazza come si chiama questa pescata? aia amuliano camuliano camuliano e qui abbiamo fornicinacchettino 170 170 vai andiamo masoni io arriverò davanti vai via 130 levatela se non mi si rompe vai bravamente tira ora si 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 ora 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 tira ci sei forcina? vai vai chi è che sta bene? maestro 190 watt 194 194 194 ragazzi via ma poi non vale no 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 vai vai prende la freccia di legno arise come arsegala hai tirato te si guarda me l'ha in posto si sei diritto è così 213 213 213 no no è possibile non è un'altra no no lui ci raccomanda è possibile perché sei un po' alto è perché ho rallentato alto dio ma come mettete lento 191 però un po' puoi passare che non fa male ora puoi mettere lento 62 62 sopra così si si è tremendo eh oh ma io sono da autostrada c'ha vent'anni io ho velocità da crociera due fps di differenza ma cos'è c'è? prego prego vuol ballare con me guarda che stile di tutto un pezzo eh che però piglia di area non sai ecco forcina che ci riprova a tutti si deve far giro eh che ha fatto di giro che la e che è